Ha piazzato un importante colpo di mercato, la società del presidente Toccafondi ha acquisito le prestazioni dell'attaccante esterno Cosimo Mino Chiricò, 24 anni, ex giocatore di Lanciano del Lecce, del Latina in Serie B e lo scorso anno dell'Ascoli con cui ha ottenuto la promozione in Serie B. Cricò era svincolato e arriva dunque a Prato per rafforzare la squadra di De Petrillo. L'intervista al nuovo arrivato. Ha sorpreso un colpo potremmo dire a sensazione per il Prato che non è uso in questo periodo dell'anno soprattutto a queste operazioni, è arrivato un attaccante di belle speranze ma soprattutto anche da un passato già importante in categoria non solo Cosimo Chiricò. I motivi di questa scelta da parte tua e le tue aspettative a Prato? Innanzitutto questa scelta è dovuta perché ho bisogno di una squadra, ho bisogno di una società in cui crede molto in me e quindi stamattina parlando col presso mi ha dato delle buone sensazioni e quindi abbiamo fatto tutto stamattina. Un'operazione rapidissima, colto al volo, Chiricò a questo punto i tifosi si aspettano da te qualche gol? Sì, spero di fare molti gol quest'anno anche perché diciamo in carriera ne ho fatti molti e quindi spero tanto che li faccia qui con il Prato. Le tue caratteristiche le conosciamo, ti abbiamo avuto l'avversario lo scorso anno a Rascone, insomma descriviti un po' e parlaci un po' di questa opportunità a Pratesi. No, no, va bene, il mio stile di gioco è giocare sulla fascia, un tipo che mi piace molto puntare l'uomo e posso dire solo che darò sicuramente un grande contributo a questa squadra e spero di far bene. Fratto conosci già questo campionato, l'anno scorso appunto l'hai affrontato con la squadra che poi insomma è salita in Serie B. Sì, sì, ci siamo incontrati già l'anno scorso, magari gli obiettivi erano un po' diversi da quest'anno perché diciamo noi lotteremo per la salvezza e niente, spero di far bene. Lotteremo per la salvezza con il Prato ma sia una nuova promozione perché insomma è raggiunta la promozione già in passato con Lascoli ma anche con Lanciano, con Lecce ci sei andato vicino. Diciamo che in C, diciamo dove sono andato, ho fatto qualcosa di importante quindi spero di ripetermi qui a Prato e di fare qualcosa di magnifico. Ora andiamo a Pistoia dove andremo a sentire...